Questo pezzo non l'avranno mai fatto fino in fondo. Bene, siamo arrivati all'appuntamento che tutti state aspettando, l'appuntamento con la musica contemporanea. La musica classica contemporanea ha questa caratteristica che se si annuncia un concerto di musica classica contemporanea ti scappano più. Allora io vi ho tirati qui con un trucco per farvi ascoltare dei brani del più grande compositore italiano, contemporanea, per me è morto, Luca Lombardi, che infatti non conoscete, con il quale abbiamo scritto, stiamo componendo una raccolta di brani che parlano di animali inutili, animali di cui nessuno parla mai, intitolata Minima Animalia. Il primo brano che vi voglio far ascoltare oggi è intitolato Il Criceto. Un piccolo criceto, un piccolo criceto, un piccolo criceto, nella gabbia corre sulla ruota, no centrale, il primo brano, uno spiego, uno spiego, il primo brano, non lo faccio più di niente.